Un'altra giornata intensa per Re Carlo, prima la cerimonia solenne a Westminster e poi il ritorno a Edimburgo dove riposano le spoglie della regina Elisabetta. Missili russi su due centrali elettriche ucraine, 9 milioni di persone rimangono al buio e la rappresaglia per la controffensiva di Kiev nell'est dell'Ucraina. Svezia è in bilico e testa a testa fra i socialdemocratici del primo ministro Anderson e i moderati grazie al successo dell'ultradestra, risultati solo mercoledì. Westminster, il Parlamento britannico a Londra, è stato al centro degli eventi della giornata odierna nel Regno Unito. L'intero paese fatica ancora a riprendersi dallo shock della scomparsa della regina Elisabetta. A Westminster, per la prima volta da sovrano, Re Carlo ha partecipato ad una cerimonia solenne a Camere riunite in cui ha ricevuto le condoglianze dei membri del Parlamento. Sono profondamente grato per i discorsi di cordoglio della Camera dei Lord e della Camera dei Comuni, che racchiudono in modo così toccante ciò che la nostra defunta sovrana, la mia amata madre, la regina, ha significato per tutti noi. Come diceva Shakespeare della precedente regina Elisabetta, era un modello per tutti i principi viventi. Più tardi, Re Carlo, la regina consorte Camilla sono volate a bordo di un jet verso la Scozia. Il corpo della regina Elisabetta ha riposato per una notte nella residenza reale di Olly Roudhouse, Edimburgo, dopo il trasferimento di domenica dalla tenuta di Balmoral. Le spoglie della sovrana, dopo la processione del palazzo di Olly Roudhouse e un rito di suffragio, sono esposte all'omaggio del pubblico nella cattedrale di St. Giles, Edimburgo, per 24 ore, prima del trasferimento di martedì pomeriggio a Londra. Con il paese unito nel lutto per la morte della sua sovrana, i giovani britannici sono divisi sul futuro della monarchia e sul senso della sua esistenza. Se alcuni di loro riconoscono la capacità della corona di farsi promotrice di valori sani, altri pensano all'istituzione con disincanto. La monarchia ci rende unici, ci offre dei valori in cui credere e ci differenzia dagli altri paesi, dice un ragazzo tra la folla a Buckingham Palace. Vorrei che la monarchia continuasse, magari non con Carlo, ma la monarchia è un bene. Di fronte al precariato e alle crescenti disuguaglianze, credo che tutte le proprietà della famiglia reale possano essere utilizzate meglio, sostiene un giovane. Le loro tradizioni sono obsolete e forse i soldi che diamo loro potrebbero essere usati meglio, ammette una ragazza. Secondo un sondaggio della società YouGov, il 41% dei giovani tra i 18 e i 25 anni preferirebbe essere rappresentato da un capo di Stato eletto con maggiori potere rispetto al monarca. Il gruppo che la pensa così, secondo YouGov, cresce di anno in anno. Festeggiano un traguardo storico i democratici di Svezia, partito populista e anti-immigrazione di Jimmy Hakeson che alle legislative di domenica potrebbe aver raggiunto il 21%, miglior risultato di sempre. L'esito delle urne è però così in bilico che nessuno si può dichiarare vincitore fino a mercoledì quando sarà ultimato lo scrutinio con il conteggio dei voti dall'estero. Quel che è certo è che dalle elezioni esce una Svezia spaccata. L'affermazione della destra oltransista segnerebbe la sconfitta del blocco di sinistra guidato dal primo ministro Magdalena Andersson a vantaggio della coalizione dei moderati di Kirstensen, alleato con i democratici di Svezia. Ora siamo davvero un grande partito, gioisce il leader Hakeson. Inizialmente gli exit poll avevano previsto una vittoria risicata per la sinistra al governo di Andersson, ma con il passare delle ore la bilancia si è spostata verso destra. Ma il primo ministro non ha ammesso la sconfitta. Ora la democrazia svedese deve fare il suo corso. Si deve conteggiare fino all'ultimo voto e aspettare il risultato. Nel frattempo siamo convinti di aver avuto buone elezioni, una campagna fantastica e un risultato soddisfacente. Grazie. Qualunque sia l'esito definitivo, la Svezia si prepara probabilmente a lunghi mesi di trattative per formare un governo, come già si è visto dopo le elezioni del 2018. Mentre le truppe russe liberano i villaggi, le persone che hanno trascorso mesi sotto l'occupazione russa raccontano storie simili a quelle narrate dai nonni dopo la seconda guerra mondiale, quando le forze russe liberarono l'Europa orientale, ma poi si dimenticarono di tornare a casa. Qui i russi sono arrivati il 29 marzo. Quello che non hanno distrutto lo hanno rubato, racconta una donna, comprese forchette e cucchiai, persino le scarpe dai piedi di un pensionato. Dall'inizio della guerra nei media circolano molte storie di crudeltà e saccheggi. Qui le persone sono felici di vedere i soldati ucraini nel loro villaggio. Non riesco ancora a credere che se ne siano andati e siamo fuori da questo periodo di morte. Ero spaventata, molto spaventata. L'immagine di una pozza di sangue è ancora davanti ai miei occhi. Un'enorme pozza di sangue. Le truppe russe si sono ritirate dall'area domenica nel mezzo di una controffensiva delle forze di Kiev. I russi erano qui al mattino, poi a mezzogiorno all'improvviso hanno iniziato a gridare selvaggiamente e hanno iniziato a scappare, caricando i carri armati e i veicoli blindati. Il villaggio è senza elettricità ora. Le persone si chiedono come se la caveranno in vista dell'incombente stagione invernale. La scuola post-covid riparte, accantonata alla didattica distanza, senza l'obbligo di indossare le mascherine e di rispettare le norme di distanziamento, inizia il nuovo anno scolastico nelle prime sette regioni italiane, secondo il calendario stilato dagli uffici scolastici regionali. A entrare in classe saranno oltre 7 milioni e 250 mila studenti, 220 mila in meno in soli due anni, segno che l'emergenza de natalità comincia a cambiare anche la fisionomia della scuola, con 3 mila classi in meno, istituti primari decongestionati e classi pollaio alle superiori. Il dato che indica in quale direzione andrà la scuola di domani è quello delle nuove nascite che nel 2021 sono scese al di sotto delle 400 mila unità. L'anno scolastico che parte oggi sarà anche all'insegna dei rincari. Il Codacons ha stimato che per libri e cancelleria gli incrementi medi dei listini sono del più 7% per i costi di produzione in capo alle imprese del settore, determinati dal caro energia. Il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi e i sindacati hanno però assicurato che il caro energia non peserà sull'andamento dell'anno scolastico, che dovrà essere in presenza e senza giornate in DAD per risparmiare sul riscaldamento delle classi. A Washington ora si punta all'autarchia al silicio. Il banco di prova è stata la crisi delle catene logistiche al picco della pandemia quando l'intero occidente si è trovato drammaticamente a corto di microchip. A questo si sono aggiunte ora le ruggini con la Cina, dai cui chip le industrie americane continuano ad essere fortemente dipendenti. Detto fatto, l'amministrazione Biden ha appena annunciato il Chips Act, un piano da 52 milioni di dollari a sostegno della produzione nazionale di microchip. Una tecnologia inventata negli Stati Uniti, ha rimarcato il presidente presentando l'iniziativa, che ha definito come un investimento gigantesco che creerà posti di lavoro e tecnologie per il futuro. Ma sul punto Biden è stato chiaro. Qualunque azienda dovesse accedere ai fondi dovrà impegnarsi a non costruire in Cina strutture tecnologiche o all'avanguardia per almeno dieci anni. Il senso dell'operazione è dunque cristallino. Se da un lato Washington sembra aver imparato la lezione della pandemia, dall'altro c'è una guerra fredda all'orizzonte che passerà in primis attraverso la corsa ai semiconduttori. La demolizione degli edifici dell'ex aeroporto internazionale di Atene procede rapidamente. Al suo posto sta sorgendo un'oasi verde. L'Ellinicon sarà uno dei più grandi parchi costieri del mondo e un ambizioso rivale degli spazi verdi di New York e Londra. Si tratta della prima e più importante fase del progetto che prevede entro il 2025 anche 9.000 unità abitative all'avanguardia, uffici, negozi, tre hotel e impianti sportivi. Siamo convinti che questo progetto riporterà la Grecia sulla scena, questa volta per le giuste ragioni. Crediamo che un certo numero di turisti visiterà la Grecia proprio per l'Ellinicon, per i punti di riferimento architettonici, per il mix di tecnologie e sostenibilità e sarà l'opportunità per impiegare il capitale straniero nel miglior modo. Uno degli obiettivi principali del progetto è quello di valorizzare la riviera Ateniese lunga 3,5 chilometri. Il porto turistico avrà 400 posti barca, mentre i cittadini potranno godere di una spiaggia pubblica di sabbia bianca lunga un chilometro. Il costo totale dell'investimento, che darà lavoro a 85.000 persone, tra realizzazione e messa regime, è di 8 miliardi di euro. Circa 20 anni fa è stato inaugurato l'aeroporto internazionale di Atene, che oggi è il cuore del più grande progetto di riqualificazione urbana in Europa. Un progetto che rilancia la città come nuova destinazione globale sul mare. Lelini condefinisce il futuro.